Pace e bene a tutti. Ecco il Signore ci ha dato la grazia di poter pregare e contemplare il suo amore in tutti i misteri del Santo Rosario. Mancano i misteri gloriosi che adesso potremo recitare e contemplare. Ogni preghiera è efficace, in particolare perché noi confidiamo in Gesù. L'efficace è Gesù e noi puntiamo tutto su di Lui. Infatti Gesù dice alle persone la tua fede ti ha salvato. È la fede con cui noi preghiamo che rende efficaci le preghiere, perché questa è una legge che ha stabilito Dio proprio, no? Quando dice la tua fede ti ha salvato, quindi è la fede con cui si prega. Gesù dice nella scrittura non crediate di essere esauditi a forza di parole, come fanno i pagani. Noi non puntiamo sulle parole o su quante parole diciamo, ma noi crediamo che la fede è come un disegno. Il disegno da solo è bianco e la fede lo colora. Allora, quello che colora il disegno e dà forza alla preghiera appunto è il colore, è la fede. Non è il disegno in sé. Ci sono persone che con il rosario, ci sono persone che magari lodano, ci sono persone che usano la preghiera del pellegrino russo, Signore Gesù Cristo abbi pietà di me. E tutte queste persone ottengono da Dio grazie miracoli strepitosi. Perché? Perché non è fondamentale la forma di preghiera, ma in particolare il cuore con cui si prega e soprattutto in chi si mette la fiducia. Noi la fiducia la mettiamo completamente in Gesù. Come diceva Santa Margarita Lacocca, tutto mi aspetto dalla sua bontà. Niente, mi aspetto da me stesso, ma tutto dalla sua bontà. Questo è molto importante. Per questo la fede, Gesù dice, quando costruite una casa, la casa deve essere costruita sulla roccia. E costruire sulla roccia significa, Signore, io confido nella preghiera in Te e confido non per i miei meriti, per quello che io posso fare e non posso fare, ma confido per quello che Tu, Gesù, hai fatto nascendo, per quello che Tu hai fatto morendo, per quello che hai fatto risorgendo. Cioè la nostra fiducia deve essere messa sempre su Gesù Cristo e su quello che Lui ha fatto, in poche parole sulla grazia. Come diceva San Giovanni Paolo II nella terzo millennio neunte, nella sua enciclica all'inizio dell'anno, diciamo, del 2000, diceva proprio il primato della grazia. È la grazia di Gesù, cioè lo Spirito Santo che Gesù ti ha ottenuto nel suo nome dal Padre che ti rende accetto a Dio. È la sua grazia che ti rende profumato, è la sua grazia che ti rende esaudito, è la sua grazia che ti rende degno anche se non te ci senti. Come ha detto Gesù Sor Fostina, l'unica cosa che a me mi allontana dall'anima è il peccato mortale. Allora, una volta che la persona si libera dal peccato grave e sta nella grazia di Dio, questa grazia è come un profumo nella sua anima. E questo profumo, quando Lui parla, questo profumo esce dal cuore e profuma le sue parole. Quando Lui pensa, questo profumo esce dall'anima e profuma i suoi pensieri. Quando Lui opera, questo profumo esce dall'anima e profuma le sue opere. Anche quando non lo senti, ricordati sempre che la grazia che è in te di Gesù Cristo profuma tutto quello che tu pensi, dici, fai. Quindi non guardare a quello che senti. Quello è umano, non è divino. Guarda invece a Gesù. Guardate a Lui e sarete raggiante. Dio non dice guardate a quello che sentite, guardate a Lui. Guarda a Gesù e anche se ti senti arido, ti senti depresso, ti senti provato, ti senti afflitto, dì a Gesù, Signore, io mi sento così. Ma io so che nella mia debolezza, nel mio sentire, agisce la potenza della Tua grazia. E quando sono debole che sono forte. Perché? Perché quando io dico mi sento debole, mi sento giù, mi sento provato, ma dico però sono in grazia di Dio. Ed è la grazia che è potente e dimostrerà la sua potenza proprio in me che mi sento così. Quale potenza più grande di quando la grazia fa miracoli in una persona che si sente l'ultimo degli ultimi? Liberamente grazia. Allora ecco, non puntare su quello che tu senti. Non puntare su quello che magari tu puoi aver fatto di perfetto. Punta sul fatto che se Gesù ti ha dato lo Spirito Santo, ti ha dato la sua grazia e tu ce l'hai nell'anima, se ti ha dato la grazia è perché ti vuole fare grazia in tutto. Nel tuo pensare, nel tuo parlare, nel tuo operare, nel tuo portare frutto. Ricordati che il Padre ti dice sempre figlio mio, non fare caso alle circostanze, non fare caso a come ti senti, metti la fede sulla grazia. Infatti la Bibbia dice il giusto vivrà mediante la fede, cioè mediante la grazia. Quando una persona nella sua vita scopre, come dice la scrittura, la tua grazia vale più della vita. Ecco, quando la persona scopre che la grazia che Dio gli ha dato, che c'ha nell'anima, vale più della vita, vuol dire che quando tu hai la grazia hai trovato grazia presso Dio. E quindi è certo, puoi crederlo con certezza, che tutto concorrerà al bene nella tua vita. Perché hai trovato grazia presso Dio. Hai trovato grazia presso Dio. Allora adesso dentro di tre potrebbe sorgere questo dolore e dire sì, io ho trovato grazia ma mi sento così. Sì, ti senti così. Ti do un consiglio. Comincia a togliere la sintonia con questo tuo sentire. Ci hai fatto caso che questo tuo sentire ti ipnotizza, ti prende, ti riempie la mente, ti riempie il cuore. Leva la tua sintonia, leva la linea dal tuo sentire e chiama, mettiti in linea in connessione invece con Gesù. Smetti di sentire radio sentire e mettiti a sentire radio Gesù. Allora vedrai la differenza nella tua vita. Quando nella tua vita lascerai operare radio Gesù, radio grazia, tu malgrado ti senti misero, vedrai miracoli strepitosi e li dovrai attribuire alla grazia, mai a te stesso, sempre Gesù. Ma se tu continui a stare su radio sentire, il sentire è come un pozzo profondo. Più lo guardi, più vedi nero dentro il pozzo e più vai giù, ti senti depresso. Perché non stai guardando a Dio, stai guardando alla tua miseria e se guardi la miseria non puoi far altro che sentirti misero. Se invece guardi a Gesù, sarai raggiante. Forse è proprio questo il tuo problema. Ma perché ti sei abituato a guardare la tua miseria? Ma se Dio ti dice di amarlo con tutto il cuore e con la mente. Perché la tua mente la tieni sulla miseria invece che su Dio? Gesù non ti ha detto ama la miseria con tutta la tua mente, quindi guardala. Ti ha detto di guardare Lui. Allora ecco, forse in questo caso pentiti veramente e convertiti. Basta guardare la tua miseria. Che scoperta c'è a scoprirti di misero? Abbiamo fatta la scoperta dell'acqua galla. Quando San Paolo della Croce dice l'uomo da solo è solo peccato e miseria. Che scoperta c'è nello scoprire che l'uomo è misero? Ma la vera scoperta qual è? Che scoprire che Gesù è morto per uno misero come me e che avendomi dato il suo profumo io da misero sono diventato profumato. E allora se Dio mi ha profumato perché continuo sempre a guardare la mia puzza. Basta, scollegati dalla tua puzza. Non gli permettere più di riempirti la mente e il cuore. Fatti riempire la mente e il cuore da Gesù. Perché i padri della Chiesa dicono ognuno di noi diventa simile a ciò che contempla. Ognuno di noi diventa simile a ciò che contempla. Se tu contempli Gesù diventerai simile a Gesù. Ma se continui a contemplare la tua miseria diventerai sempre più misero. Quindi basta. Contempla Gesù perché contemplare significa amare. Ama Gesù. Non in qualche modo la tua miseria. Allora ecco ti annuncio questa meraviglia. Non sei più condannata a guardare la tua miseria. Non esiste più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Da oggi decidi con un atto libero della tua volontà in fede di dire basta. Non voglio più sdraiarmi sulla lettica della mia miseria. Gesù mi ha detto come al paralitico alzati della tua lettica. Prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Basta. Alzati della tua miseria. Prendi il lettuccio. Sei guarito. Ormai hai trovato grazia presso Dio. E questo è il tuo nuovo stato. E questa è la verità della tua vita. Questa è la verità. E la verità ti farà libero. Allora accogliela. Vivila. Falla tua questa verità. E vedrai che guardando a lui diventerai raggiante. Questa è una promessa della parola di Dio. Allora adesso iniziamo proprio con i misteri gloriosi. Ma Gesù voleva che facessi questa introduzione perché questo è rosario che poi sarà unico. Io non so chi lo ascolterà o no. Ma so che ho parlato sicuramente nel nome di Gesù a qualcuno. E questo sarà un annuncio di potenza e di misericordia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presti in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio re sempre nei secoli dei secoli. Ame. Gesù perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Nel primo mistero della gloria contempliamo Cristo che risorge dai morti. L'angelo disse alle donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Lo senti? Perché cerchi nella tua miseria che è morte colui che invece è vivo e non troverai mai nella tua miseria? Allora chiediamo adesso che come quando Gesù è risorto, la tomba che era scura, su cui era stata messa una pietra grandissima, era scura e fredda. Invece quando Gesù è risorto, quella grotta si è riempita della potenza della risoluzione serra, la tiada di luce, il freddo è andato via, la miseria ha incontrato la misericordia e la miseria si è trasformata grazie alla grazia in misericordia. Ecco chiediamo che tutta la tua miseria adesso sia donata veramente, la mettiamo dentro il sepolcro di Gesù, dove è risolto Gesù. Mettiamo tutta la miseria che ci può essere nella tua vita dentro il sepolcro di Gesù e chiediamo che questa miseria sia irradiata dalla stessa potenza che è uscita da Cristo quando risorgeva e che questa miseria sia innaffiata dalla grazia come un terreno arido, sia innaffiato dalla grazia e che il deserto diventi un giardino, il deserto della tua miseria diventi il giardino della misericordia di Dio. Chiediamo questa meraviglia, oggi vogliamo proprio consegnare a Dio tutta la nostra possibile miseria e chiederne come diceva Padre Pio, Dio fa della tua miseria il trono della sua misericordia. Chiediamo che Gesù adesso sieda in trono sulla nostra miseria e la faccia diventare il trono della sua misericordia, cioè il luogo dove si dice dove ha abbondato la miseria, ha sovrabbondato la grazia al punto che Dio farà del tuo deserto un giardino. Come avverrà questo? Come disse l'Angelo a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te. Questo serve. E adesso che gli hanno lo Spirito Santo, che ha irradiato tutta la tomba di Cristo quando è risorto, irradia la tua miseria e sia Lui a realizzare questa meraviglia. Che Cristo risorga in te e tu risorga insieme con Lui e possa vivere veramente da risorto, cioè da chi ha trovato grazia presso Dio e non è più condannato alla sua miseria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, comincialo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e relegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Nel secondo mistero della gloria, contempliamo Cristo che sale al cielo e siede alla destra del Padre. Abbiamo un Avvocato presso il Padre. Egli intercede per noi con gemiti inesprimibili. Ecco, in questo secondo mistero scopriamo di avere un Avvocato presso il Padre che intercede continuamente per noi con gemiti inesprimibili. Adesso chiediamo che per i gemiti inesprimibili che Gesù presenta al Padre, per tutti i gemiti che si sentono ascoltando il sangue di Cristo che cola dalle sue piaghe, che è stato versato in tutta la sua vita. Per questi gemiti di Gesù che il Padre ascolta, noi possiamo passare dalla morte alla vita. Ecco, prima dicevo che bisogna togliere la sintonia con la miseria e collegarsi invece con Radio Gesù con la misericordia. Ma questo lo può fare soltanto, lo possiamo fare solo attraverso la grazia. Allora adesso per i gemiti di Gesù, per le preghiere del nostro Avvocato che ci difende anche dalla nostra miseria, chiediamo di fare il passaggio di togliere ogni sintonia con la nostra miseria e di sintonizzarci completamente, mente e cuore con lo Spirito Santo e con tutto quello che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Chiediamo il dono, come dice la scrittura, non ricorderete più le cose passate. Ecco, io ne faccio nuove. Allora chiediamo il dono non solo di scollegarci dalla nostra possibile miseria, ma di scollegarci talmente bene, per grazia di Dio, da non ricordare neanche più la nostra miseria, ma non perché siamo dei superficiali, ma perché siamo talmente rapiti dalla grazia di Dio, talmente presi mente e cuore dall'amore di Dio, che non c'è più spazio nel nostro cuore e nella nostra mente per la miseria. San Francesco di Salle dice una cosa meravigliosa, dice quando una persona è così riempita dall'amore di Dio, non c'è più spazio in lui per il male. Allora non è tanto togliere, il male va tolto, ma bisogna riempirsi dell'amore di Dio, perché essendo pieni di questo amore non c'è più spazio nella nostra vita per stare a pensare alla miseria, ma se penseremo alla miseria è solo per dire quanto è stata meravigliosa la misericordia di Dio, cioè per dare gloria a Dio, non per circrucciarci sulla nostra miseria. San Francesco di Salle dice quando una persona sbaglia, Dio vuole un dolore ragionevole, sereno, ponderato, fermo, ma non vuole un dolore che si corruccia su se stesso, che si affligge, che si accanisce, no. Lo Spirito Santo è pace e anche quando ti stacca dalla miseria, lo fa sempre dandoti un frutto di pace, mai mandandoti in isperazione oppure tormentandoti, no. Lo Spirito Santo non tormenta, lo Spirito Santo consola. Allora adesso chiediamo la grazia di staccarci da tutti i tormenti che ci possono venire dalla nostra miseria e di sintonizzarci con radioconsolazione dello Spirito Santo, perché solo Lui sa come consolare certe nostre miserie, solo Lui sa come consolare certi nostri tormenti, solo Lui sa fare quello che magari noi non potremmo mai fare da soli. Allora in questo secondo mistero chiediamo proprio che per mezzo del nostro Avvocato, che offre i gemiti al Padre per noi, si realizzi la meraviglia della grazia della nostra vita. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta fra le donne, è benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mamma, per la Tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegasci a Dio con la dolce cadena del Santo Rosario. Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima, gli Apostoli riuniti in preghiera, e fonderò il mio Spirito su ogni creatura. Ecco, in questo mistero si contempla proprio il dono che Gesù ha chiesto al Padre e nel suo nome ha donato a tutta l'umanità lo Spirito Santo. Non c'è dono più grande di questo. La Chiesa nel Catechismo dice quando uno riceve lo Spirito Santo riceve tutto, perché riceve la fonte di tutte le benedizioni. Lo Spirito Santo che è Dio, terza persona della Trinità, è la fonte di tutte le benedizioni. E quando nella Bibbia si dice Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, vuol dire che nei cieli è stato stabilito che lo Spirito Santo scendesse e quindi una volta che scende lui, con lui scendono tutte le benedizioni. Per questo ti sto dicendo vivi per grazia, cioè vivi per il fatto che dentro di te c'è lo Spirito Santo. C'è sia quando ti senti bene che quando ti senti male, sia quando ti senti arido e quando ti senti gioioso. Non conta davanti a Dio quello che senti tu. Cioè Dio si prende cura anche del tuo sentire. Ma ricordati che tu non sei condannato a dare retta al tuo sentire perché lo Spirito Santo è come il Sole. Il Sole c'è sia quando si vede sia quando è coperto dalle nuvole. Ma nessuno si sognerebbe di dire il Sole non c'è. Però se uno si basasse sul sentire direbbe, oh, non si vede il Sole, non lo sento. Eppure c'è. Allora ricordati, tieni gli occhi sempre sullo Spirito Santo che è dentro di te, attraverso la grazia. E così non verrai mai risocchiato dai mulini della miseria, dai mulini della tristezza, dai mulini della depressione, dai mulini della paura, dai mulini della rabbia, dai mulini come quando Pietro camminava sulle acque. Finché ha guardato Gesù camminava sulle acque, su tutti i mulini. Quando invece non guardava Gesù lo stavano praticamente tirando dentro l'acqua i mulini, cioè se lo stava inghiottendo l'acqua. Così tu, se tieni gli occhi sulla grazia e sullo Spirito Santo camminerai sulle acque, su tutti i tuoi possibili mulini, su tutti i tuoi possibili dolori, su qualunque cosa ti potrebbe spingere in giù. Se invece ti sintonizzi con la miseria e cominci a dargli retta e levi gli occhi da Gesù, allora cominci a sprofondare i tuoi mulini di paure o del resto ti potrebbero inghiottire. Però ricordati sempre come fece Pietro. Pietro quando ha visto che stava cadendo ha detto Signore salvami e Gesù gli ha steso la mano e l'ha tirato fuori dal mulino. Quindi se anche tu ti dovessi sentire preso da qualche mulino, di anche tu a Gesù Signore salvami. Lui ti stenderà la mano, ti riporterà sulle acque e ti dirà adesso, come gli ho detto a Pietro, perché hai dubitato? Perché? Perché hai dubitato significa perché hai tolto gli occhi da me? Allora, e ti aiuterà a rimettere gli occhi proprio su Gesù in modo tale che nella tua vita tu potrai veramente sperimentare che con Gesù sei libero e niente ti può imprigionare. Allora in questo mistero chiediamo allo Suo Santo che scenda e ci dia il dono, qualunque siano le circostanze che ci potremmo trovare a vivere, ci dia il dono di tenere gli occhi su Cristo e di non farci risocchiare dai mulini e delle circostanze, dai mulini che possiamo vivere dentro di noi o fuori di noi o qualunque cosa ci potrebbe distrarre dal tenere gli occhi su Gesù. Nella Bibbia c'è scritto non appoggiarti sulla tua intelligenza, confida in Lui, pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri, pensa a Lui, cioè guarda a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri, guarda a Lui ed Egli appianerà i mulini e potrà camminare addirittura sulle acque, pure le acque diventeranno piatte e anche lì ti potrà far camminare anche se sembra impossibile, ma per Dio tutto è possibile. Allora chiediamo questo dono meraviglioso che da oggi nessun mulino ci possa più risocchiare e niente ci possa più strappare dall'amore di Dio in Cristo Gesù, dal tenere gli occhi fissi su Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come a noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le cadene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce cadena del Santo Rosario. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima che viene assunta in cielo, anima e corpo. Nel cielo apparve un segno glorioso, una donna vestita di sole. Ecco, in questo mistero ci ricordiamo che la Madonna con la sua preghiera ha ottenuto il miracolo di trasformare l'acqua in vino. Adesso si dice che Maria è stata assunta in cielo, anima e corpo. Allora adesso qualunque male noi potremmo trovare nella nostra anima e nel nostro corpo rappresenta l'acqua. Adesso per le preghiere di Maria, per la sua assunzione in cielo, chiediamo che ogni male della nostra anima e del nostro corpo si trasformi in vino, cioè il male si è rimosso e attraverso la preghiera di Maria il male si è bruciato vivo e come Maria è stata assunta in cielo, anima e corpo completamente, così adesso noi vogliamo donare completamente insieme a Maria tutta la nostra anima e il nostro corpo a Dio perché lo Spirito Santo ne prenda possesso completo e bruci completamente nella nostra anima e nel nostro corpo tutte le scorie. Come dice la scrittura, loro quando passa nel fuoco si bruciano le scorie e rimane loro. Chiediamo che la nostra anima e il nostro corpo passi e rimanga nel fuoco dello Spirito Santo, appartenga allo Spirito Santo e tutte le scorie. Maligno di qualunque specie si bruciano nel fuoco dello Spirito e non rimanga soltanto l'oro della grazia piena nell'anima e nel corpo e che Dio ci dia il dono di essere sempre guidati, consigliati e confermati dallo Spirito Santo. Grazie ai meriti, alle preghiere e alle soppliche di Maria Santissima. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Maria Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e relegaci al Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Il quinto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima che viene incoronata regina dell'universo. Questo mistero contempliamo quello che fa lo Spirito Santo nelle anime. Lo Spirito Santo vuole che le anime, come Maria Regina, regnino. Infatti San Paolo dice, il peccato ha regnato attraverso la morte, ma Dio ci ha donato la giustizia e quindi la grazia regna attraverso la giustizia, cioè la grazia che Dio ci ha donato. Quando una persona sta nella grazia, il suo destino è regnare con Maria, per Maria in Maria. Allora che significa questo? Significa che da oggi devi veramente smetterla di pensare, questa è una menzogna in cui puoi aver creduto che sei un condannato. Tu, per la grazia che è in te, sei destinato, tra virgolette, destinato a regnare. Perché? Perché la grazia è come un anello. Tu sai che il re, quando voleva dare il regno al figlio, gli dava l'anello, no? L'anello è il segno della regalità. Cioè significa che il figlio, a nome del padre che è il re, poteva fare documenti, poteva prendere decisioni e così via. Allora, la grazia in te è come l'anello di Dio, Dio ti ha dato il suo anello. Quindi tu, nel nome di Gesù, per la grazia appunto per l'anello che Dio ti ha dato, direi, l'anello che rappresenta il potere del padre, per questo anello tu puoi regnare. Allora ecco, da oggi, smettila di parlare di te stessa o di te stesso come se non fossi un figlio di re, come se fossi, in qualche modo che ne so, un dimenticato. Comincia ad accogliere come grazia il tuo nuovo stato. La grazia ti rende figlio di re. Tu, alla mano, hai l'anello da figlio di re. Perché, in qualche modo, puoi continuare a pensare che invece non sei nessuno? Ecco, prendi coscienza, per grazia di Spio Santo, di questa cosa e da oggi cominci a dire a Dio ringraziandolo che ti ha reso figlio di re con la sua grazia. al demonio che ti dice che tutta è un'illusione di non crederci, di di tacere, perché dice solo menzogne, e soprattutto davanti agli altri e a te stesso, presentati come se tu fossi vestito veramente, come dice il figlio del prodigo, con l'abito più bello, con l'anello al dito e i calzari e i piedi. Presentati come una persona rivestita dalla grazia, con l'anello della grazia al dito e con i calzari della grazia e i piedi. Tu sei avvolto dalla grazia. Se tu ti vedessi con gli occhi dello Spirito, ti metteresti a piangere per la gioia, per quanto sei bello agli occhi di Dio. immergeti in questa meraviglia. Passa tutta oggi a dire veramente sono pieno di grazia, sono pieno di grazia come Maria, nel senso che lo Spirito Santo mi riveste della sua grazia. San Polo dice che chi è stato battenzato in Cristo si è rivestito di Cristo, tu sei rivestito di Cristo. Se ti vedessi nello Spirito, hai un vestito meraviglioso addosso e a volte sembra che ti comporti come se hai invece un vestito pieno di toppe, con i buchi, magari pure che puzza. No, questa è una menzogna, è Satana che ti dice che questo vestito è tuo. credi alla grazia. Credi, mangiala questa grazia, bevila con la bocca, falla entrare nel cuore, falla diventare il corpo e sangue della tua vita. È questa la verità che ti fa libero. Pensati, comincia a immaginarti tutto rivestito di questa grazia. quando vai in giro, immaginati che sei rivestito di questa grazia e che le persone ti vedano con questo vestito. Quando vai in giro, immaginati che Gesù, il Padre, ti veda tutto rivestito così. Quando vai in giro, immaginati che i demoni ti vedano rivestito così, perché la verità, questo tu sei. Se tu ti immergerai sempre più in questo avvolgimento di grazia, nella tua vita tutto diventerà grazia. Se tu riconoscerai la grazia che è dentro di te e che ti avvolge, intorno a te tutti riconosceranno che tu sei figlio di grazia. Come disse Adame Deva a Dio, date i nomi a tutte le cose e dominate su tutto. Se tu riconosci che dentro di te c'è il dominio di Dio e la grazia, tutto il resto verrà dominato da te per grazia e per servire Dio e fratelli. Coraggio! Adesso hai scoperto questa meraviglia. Sei immerso nella grazia, sei pieno di grazia, sei rivestito di grazia. Questo è il tuo destino. Come dice la scrittura, questa è la mia sorte, Dio. La tua sorte è Dio. Ed essere figlio di Dio, rivestito di grazia. Chiediamo che la Madonna Regina, in questo quinto mistero, proprio Dio ci faccia comprendere bene questa verità, ce la faccia sentire così profondamente nell'anima che ci possiamo proprio non solo credere, ma sentire sempre così. Quando dormiamo, quando agiamo, quando usciamo, sempre siamo figli di grazia. dovunque ci possiamo trovare. Ecco perché nella liturgia si dice, ti rendiamo grazie in ogni luogo, in ogni luogo dove noi potremo stare siamo figli di grazia. e quindi tutto per noi concorrerà al bene. Tutto sarà grazia perché concorrerà al nostro bene. Questo quinto mistero contempliamo Maria appunto, incoronata Regina. e nel cielo si vide un segno grandioso, una donna vestita del sole, sul suo capo una corona di 12 stelle. Ecco, sappi che tu sei rivestito di grazia e sul tuo capo, se tu potessi vedere esprimamente, c'è la corona di chi è figlio di re. La corona della grazia. Prenditi di questi vestiti, mettiti e vivici sempre rivestito di grazia e coronato di grazia perché così Maria ci rivela che è la verità di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazioni ma liberaci dal male. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesse nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesse nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesse nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesse nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Adesso finiamo consacrando tutta la Regina del Cielo e della Terra e dell'Universo e chiediamo che attraverso la Corona di Grazia e il Vestito di Grazia regniamo su tutto, nel nome di Gesù, sui pensieri, sulle parole, sulle opere, sulle difficoltà, sulle malattie, sui demoni, su qualunque cosa, per la grazia di Dio. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo esso le figlie di Eva, a te sospiriamo o gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria, preghiamo per il Santo Padre e l'acquisto delle sante indulgenze, in particolare per tutti i morti del coronavirus e per tutti i defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra, da c'è oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come a noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indurra in tentazioni, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa e nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. L'eterno riposo con il loro Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace, ame. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fai affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco adesso finiamo recitando l'editania allo Spirito Santo, perché da oggi proprio chiediamo a Lui, ci consacriamo completamente allo Spirito Santo chiedendo che Dio regni in noi e regni attraverso di noi sempre per mezzo della grazia dello Spirito Santo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Padre tutto potenza, abbi pietà di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre, abbi pietà di noi. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le tue vite, abbi pietà di noi. Santissima Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Adesso risponderemo, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sia uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce del cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Adesso invece risponderemo, scende su di noi. Spirito di amore e di verità, scende su di noi. Spirito di sapienza e di scienza, scende su di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, scende su di noi. Spirito di intelletto e di pietà, scende su di noi. Spirito del Santo, di amore di Dio, scende su di noi. Spirito di grazia e di preghiera, scende su di noi. Spirito di pace e di mitezza, scende su di noi. Spirito di modestia e di innocenza, scende su di noi. Spirito confortatore, scende su di noi. Spirito santificatore, scende su di noi. Spirito che governi la Chiesa, scende su di noi. Dono del Dio Altissimo, scende su di noi. Spirito che riempi l'universo, scende su di noi. Spirito di deduzione dei figli di Dio, scende su di noi. Adesso, queste altre di Danie, non c'è una risposta univoca, quindi le leggerò proprio io. Spirito Santo, ispira a noi l'orrore dei peccati. Spirito Santo, viene e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare bene. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza. Spirito Santo, facci conoscere l'unica cosa necessaria. Spirito Santo, ispira in noi la pratica del bene. Spirito Santo, concedi a noi il merito di tutte le virtù. Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, usi tu la nostra perenne ricompensa. Spirito Santo, regna in noi e sempre attraverso di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempie le nostre anime del tuo Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Dio che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi i doni dello Spirito Santo fino ai confini della terra e continuo oggi nella comunità dei credenti protigica e operata agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Finiamo proprio con l'atto di consagrazione allo Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, tu vuoi abitare in me, povero peccatore, e trasformarmi in un tempio della tua gloria. Vieni, Spirito della comunione divina, vieni e riempi tutto il mio essere. Vieni e uniscimi a Gesù crocifisso e risorto, per essere con Lui e con tutti i miei fratelli un solo corpo, per essere con Lui un figlio prediletto del Padre. Tu ti sei donato a me senza misura, umilmente anch'io mi dono e mi consacro a te senza misura. Rendimi docile alla tua azione, perché tu possa compiere la tua missione in me, nella Chiesa e nel mondo, adesso e fino all'ora in cui mi rimetterò con te tra le mani del Padre come Gesù per l'eternità. Ti prego con Maria e tutti i Santi. Amen. Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Unipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene a tutti.